Sì, è un po' da me, tu me lo ho, tu mi mi fai, tu mi mi fai, non ti so che conto la vita, non ti so che conto la vita, non ti so che mi fai, 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 penso sia difficile non aver voglia di beggiare quello che abbiamo visto, perché siamo di fronte a un professionista, quindi... Max, è tutto il mio? Sì, due, tre, uno, due, tre... No! No! Bono Steam! E con che forza Max gioca il Super Beige! Ha già fatto il Bono Steam, ma... Vai! Lancia il Super Beige! Team giallo o Team blu? Allora, io voglio rimanere fedele alla mia squadra e rimango col mio Team blu perché mi sono trovato... A BOLO! Tante! Sono molto amareggiata e arrabbiata perché, ovviamente, hanno usato il Super Beige per prendere una persona che, secondo me, non era da Super Beige. In effetti, a me piaceva l'artista che Dolores sia preso col gong, ma non l'avrei mandato al gong, l'avrei lasciato al Team giallo. Le scelte che facciamo cominciano a non essere tutte completamente scelte condivisibili. Grazie! 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 Grazie!